Eccoci qui, eccoci qui a tutti voi, bentornati, un video un po' particolare, un po' speciale, spero che non abbia troppi casini, fatto per mostrarvi al volo come funziona GeForce Now, avevo fatto qualcosa di similare per Playstation Now, si chiamano tutti Now questi servizi di streaming, di che si tratta? Vi rimando in primis al sito, multiple.it, perché il buon Matti Armani ha pubblicato un articolo molto approfondito su questo testing, GeForce Now è questo sistema di streaming integrato dentro Nvidia Shield, fatto ovviamente da Nvidia, praticamente adesso arriva con una beta su PC in una forma molto estesa, che non comprende soltanto i giochi base del servizio, ma comprende anche una sorta di, chiamiamola integrazione, se così si può dire, Sì, una sorta di integrazione con la propria libreria Steam, la propria libreria Uplay, la propria libreria Battle.net, che significa questo? Significa che, oltre a per giocare a tutti i giochi che fanno parte del pacchetto GeForce Now, che sono già parecchi, li potete trovare, li state un pochettino intravedente anche qui, ma state sul sito di Nvidia, li trovate in un attimo, oltre a poter giocare quelli, potete in pratica inserire le vostre credenziali di Steam, Uplay, la piattaforma di Ubisoft, e Battle.net, per far sì che possiate giocare anche con i titoli che avete fisicamente comprato, su quelle librerie. È una cosa un pochettino cervellotica, però in realtà quando l'utilizzate lo capite in un attimo, quindi dovreste, dovrete pagare quello che sarà l'abbonamento di GeForce Now, che attualmente è di 10 euro al mese, su Shield, su Shield, perché Nvidia ha parlato di una formula a pacchetti ore, in cui bisogna spendere un tot di soldi per avere 20 ore di gameplay, una formula stranissima che speriamo non, spero, non sia poi quella definitiva perché vorrebbe dire uccidere il servizio, ma potrebbe essere una roba che ad esempio a 20 euro al mese, 15 euro, a questi stessi 10 euro al mese, vi permette di giocare ai giochi di GeForce Now, quindi ai giochi loro proprietari, cioè no proprietari, ai loro giochi compresi, e in più interfacciarvi appunto con queste tre librerie di Steam, Uplay, e Battle.net vostre, quindi con i giochi che voi avete comprato su quelle librerie, e giocarli in streaming su qualsiasi macchina, vi basta entrare con le vostre credenziali di GeForce Now, e a quel punto anche sul portatile, diciamo più vecchio del mondo, in realtà deve gestire un traffico video mp4, deve essere proprio un catorcio, però diciamo una macchina con bassissime richieste hardware, potrete giocare in streaming a tutti i giochi, quindi che possedete concretamente in digitale su Uplay, Battle.net e Steam. Adesso vi faccio vedere un po' il sistema, ripeto, è a tutt'oggi ancora una beta, vedete, versione 1.5.1, 199, eccetera, eccetera, che si appoggia però già ai server europei, come state vedendo qui sopra, intanto mentre chiacchiero con voi, sto utilizzando l'account di Mattia, visto che a tutt'oggi a me non è arrivato, la prima volta che si fa partire, o quando si fa partire l'interfacciamento con Steam, o cliccando come ho fatto adesso su test, vi fa questo breve, abbastanza rapido test per vedere la vostra connessione, perché come io ho già detto prima, è un servizio streaming esattamente identico a PlayStation Now, quindi voi giocate sfruttando, come se fosse un video a due direzioni in streaming, sfruttando una macchina che è fisicamente residente da qualche parte, sono tutte macchine potenziate dalle schede video Tesla di NVIDIA, ma che poi, quando voi lo andrete a utilizzare, è come se vi desse a disposizione un PC con buona componentistica hardware, non meglio definita, ma con una GeForce 1080. Come vedete queste sono le richieste, 25 megabit di banda, quindi io qui ho una fibra team da 100 megabit, quindi non ho problemi, ho una quantità di perdita di frame che sia almeno sotto al 2%, questo è un valore molto molto variabile, la prima volta che lo vedo su 0, in realtà io ho fatto tantissimi test, andava sempre 0,5, 0,8, 1, me lo faceva in grigio, in arancione, in tutti i peggio colori del mondo, questo dipende molto da quanto è satura la banda, non solo quella vostra, ma essendo adesso una beta anche la banda dei server residenti, e poi una latenza, io ho 35, bisogna avere almeno 80, raccomandato sarebbe 40, qui ci si gioca tutta la qualità insieme alla perdita dei pacchetti, tutta la qualità dello streaming, nel momento in cui soddisfate questi requisiti, attualmente il servizio è in beta, non potete entrare liberamente, dovete essere invitati, nel momento in cui il servizio funziona, insomma avete accesso, potete iniziare a giocare i vostri titoli. Io adesso vi faccio vedere per esempio che già c'è, già è preparato, faccio un launch di The Witcher 3, sperando che funzioni con OBS, non ho bene idea, faccio la prova in tempo reale, sto facendo il lancio di The Witcher 3, e questi sono i tempi effettivi, proprio sto acquisendo l'intero schermo, io sto giocando con un PC di fascia abbastanza alta, ho una GeForce 1080, un Intel Core i5-4690, quindi una macchina media alta, diciamo media per il processore ormai, ma molto alta per la scheda video, ma in realtà come ho già detto prima potete giocarci dove vi pare. In pratica fa partire questa sorta di versione residente di Steam sui server di Nvidia, supporto totale naturalmente al pad, mouse e tastiera, perché naturalmente dipende dalla macchina che concretamente, cioè da quello che concretamente avete installato sulla vostra macchina, i tempi non sono velocissimi, state vedendo in particolare sono un po' lentini sui giochi Steam. Ecco qui. Io a questo punto tra l'altro sto giocando con l'account di Mattia, la cosa figa è che naturalmente potrete andare a gestire le impostazioni video, come se a tutti gli effetti foste sul vostro computer, quindi adesso per esempio ho aumentato quello, qui metto su estrema, ho messo, ho levato il vertical sync, torno indietro, faccio un continuo, non so neanche dove è arrivato Mattia, però quello che volevo farvi capire è che è come se voi proprio aveste accesso a un PC, quindi potete andare a settare le impostazioni per far sì che giri bene su una 1080, in questo caso sto con la risoluzione 1080p, non avrete, insomma, non avrò grandi problemi, però il concetto è quello, quindi dovrete gestirlo in modo tale che funzioni, spero che si veda, io mi auguro di sì, sì dai, credo di sì, credo che stiate vedendo, eccolo qui. Io adesso sto giocando in streaming, sì, vabbè stica, vedete c'è un po' di stuttering come state vedendo, e basta con tutte queste cose. La qualità grafica è abbastanza pulita, non ci sono particolari artefatti tipici degli streaming, quello che succede è che vi fa gli artefatti, quelli grafici, come quando state vedendo un film, un filmato a bassa qualità, quindi proprio con lo spicsellamento tipico dei video in bassa qualità, o che appunto lo streaming non sta funzionando bene, però, farvi capire, questo è il gioco, insomma, a livello di, di come si dice, di latenza nel momento in cui, come adesso, gira benissimo, giusto per farvi vedere, non so se lo riuscite a vedere, però, anche per vedere com'è il funzionamento dei tasti, è praticamente, cioè, la sensazione è praticamente in tempo reale, devo essere sincero, nonostante abbia un ping sopra il 30, così via, però adesso veramente funziona benissimo. Devo dire, in tutta onestà intellettuale, che è la prima volta che mi sta girando così bene, ho fatto un sacco di prove in questi due giorni, in realtà, molto spesso si sente tanta latenza, ma, ripeto, è una beta, i server non ci sono ancora server in Italia, si appoggia, credo, a un server o in Inghilterra o in Germania, non ricordo precisamente, però, insomma, ecco, questo qui è una qualità, tutto alto, quello che vorrei farvi vedere è che, per esempio, io adesso, tranquillamente, posso andare a mettere opzioni, impostazioni video, impostazioni grafiche, e posso, ad esempio, mettere tutto al minimo, chiudo, e adesso il gioco sta girando con tutto al minimo, quindi ho proprio accesso diretto alla configurazione del computer. Usciamo, eccoci qui, nel momento in cui si esce, il sistema chiude tutte le sessioni aperte, e ci si ritrova, qui. Proviamo un'altra cosa, proviamo a lanciare Overwatch, in questo caso, naturalmente, ci stiamo appoggiando a Battle.net, vado, vi faccio vedere anche The Division, giusto per darvi un'idea, i tempi, ovviamente, di lancio non sono rapidissimi, mi sembra anche abbastanza scontato, ci mancherebbe altro, però, a livello di funzionamento, come avete visto, una volta che siete in gioco, il sistema funziona perfettamente. Adesso aspettiamo che parta Overwatch. Ah, no, cavolo, non posso entrare, perché giustamente mi chiede il login e password di Mattia, perché è proprio carica, cioè fa partire sul computer in remoto, fa partire proprio una sessione di Battle.net di Steam, attualmente, come vedete, il sistema non è particolarmente ancora funzionante, per cui, se chiudete il programmino, naturalmente, lui rimane aperto e sta lì in attesa che facciate qualcosa, quindi va chiuso a mano, come state vedendo in questo momento. Ho dovuto chiudere a mano la sessione remota, dargli qualche seconda affinché effettivamente ve la chiuda. Si spera che me la chiuda. Incrociamo le dita su questa chiusura della sessione. Eccola qui. Adesso faccio partire, per esempio, The Division. In questo caso, appunto, si appoggia, naturalmente, su Uplay, quindi la piattaforma di Ubisoft. Anche qui funziona lo stesso discorso. Bisogna essersi loggati la prima volta. Insomma, ci sono delle opzioni per potersi interfacciare con questi tre titoli, queste tre piattaforme di Digital Delivery. Al momento non è supportata, l'unica che rimane fuori di grande, sono GOG e Origin. Però, in realtà, gran parte dei giochi GOG sono già dentro GeForce Now, come una parte dei giochi Steam. Ripeto, ci vuole un pochino di tempo. Ah, l'altra cosa che non ho detto prima è che il sistema funziona perfettamente anche se non si hanno schede Nvidia, o se non si ha Shield, naturalmente. Cioè, questa si tratta della beta di questa versione PC, di questo GeForce Now per PC, che potrà essere utilizzata su qualsiasi macchina. Basta pagare l'abbonamento mensile, l'abbonamento mensile ha ancora da definire, lo ridico un'altra volta, ma a quel punto, una volta pagate l'abbonamento, potete anche farlo girare su le schede video integrate di Intel, che trovate, per esempio, sui processori, le HD graphics, su schede AMD, naturalmente. Cioè, siete liberissimi di utilizzare qualsiasi scheda video. Non è quella la parte importante. I tempi sono questi, eh, ve lo sto facendo vedere proprio in tempo reale. Eccolo qui. Vediamo se ce la facciamo. Qui ho fatto partire esattamente The Division. Tra l'altro, come vedete, ci sono tutte le sovraimpressioni, quelle di Steam, quelle di NVIDIA, quelle di Uplay. Si sincronizza con la vostra libreria degli amici, naturalmente, perché, come vi ho detto prima, proprio è come se fa partire, come se facesse partire una sessione in remoto delle piattaforme di Digital Delivery, direttamente collegate ai vostri account. Come proprio se aveste un PC da qualche parte che è pronto a far girare la vostra roba. Questo lo faccio giusto partire, non entro in gioco, eh, vi faccio giusto vedere il funzionamento, l'interazione. Eccola qui. Come state vedendo, normale. Anche qui, accesso diretto a tutte le opzioni grafiche. Questo è tutto perfettamente integrato, senza alcun tipo di differenza. Io sto usando il mouse, il pad, potete utilizzare il mouse e il tastiera. Tutto perfettamente funzionante. Usciamo. Yes. Eccoci noi. Adesso vi faccio anche vedere un attimo, visto che la parte più interessante è l'integrazione con Steam. In pratica, come state vedendo, io posso tranquillamente far partire Steam, far partire la sessione remota di Steam, e questo mi permette appunto di andare ad installare i giochi che io possiedo su Steam. Ovviamente, ripeto, la configurazione avviene in remoto, quindi dovrò collegarmi a questo computer in remoto su Steam e eventualmente sloggarmi e loggarmi con un altro account, senza problemi. Potrei collegarmi con il mio account, anche se sto utilizzando la beta di Mattia. E a quel punto scaricare i giochi e farli funzionare. Eccolo qui. Una volta partito Steam, come state vedendo appunto, mi interfaccio di nuovo con l'account. Questo mi fa vedere quali sono i giochi installati sul server remoto. Io posso tranquillamente andare a vedere tutti i giochi che ho su Steam, in questo caso tutti i giochi che ha Mattia, e posso installarli. Che cosa significa? Significa che, in pratica, per giocarli in streaming devo concretamente installarli sul server remoto. Per esempio, voglio giocare Quantum Break, vado a installarlo. Che succede? Mi avvisa nel caso di Quantum Break e mi dice che è un gioco non supportato da GeForce Now, che vuol dire che io lo posso comunque giocare in streaming, senza problemi, ma ogni volta lo devo andare a reinstallare e come vedete i giochi, i salvataggi, sono abilitati solo se è abilitato Steam Cloud. Quindi devo stare attento che dentro al gioco sia abilitato Steam Cloud. Quindi io posso tranquillamente giocarlo, senza problemi, cioè me ne frego, ci gioco. Però in quel caso cosa succede? Prima di tutto l'installazione è un'installazione vera, quindi devo aspettare che su quel server, che ha una super connessione come state vedendo, che su quel server si sia scaricato il gioco in concreto. Dopodiché qual è il problema? Che ogni volta che chiudo la sessione lui resetta il server e quindi il gioco me lo dovrei poi andare a reinstallare. Adesso io lo blocco. Ecco qui. Oppure posso andare in questo caso, vado per esempio con Deus Ex, Deus Ex, Mankind Divided. In questo caso si tratta di un gioco supportato da GeForce Now, quindi non solo non mi dà più l'avviso, ma come adesso andrete a vedere, l'installazione è istantanea. Guardate la velocità di installazione, è un'installazione che ci mette veramente pochissimi secondi, come avete visto. sta sincronizzando adesso i salvataggi miei, o meglio, i salvataggi di Mattia, quindi quello che lui si è giocato sul suo computer, sta facendo la sincronizzazione e adesso che finisce la sincronizzazione, ma in teoria lo potrei già far partire senza problemi, io potrò andare a giocare a Deus Ex. Eccolo qui. Lo posso andare a giocare tranquillamente in remoto. Adesso vi faccio vedere. anche qui tranquillamente posso stare a smacchinare con i settaggi, anzi ci smacchino subito, così metto 1920x1080, vedete lui mi dice come se avessi una Tesla P40, posso mettere l'anti-aliasing, posso mettere le opzioni grafiche, vado a mettere un very high, ok, e play. Eccoci, il gioco adesso parte con i suoi tempi tecnici di cui vi dicevo prima. Eccolo qui. Addirittura potenziato con MD, Square Enix, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, dai, 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 eccoci qui. Ci siamo. Storia continua. Io adesso sto giocando in remoto con un gioco che ho installato tramite Steam sulla macchina in remoto e lo posso far funzionare senza alcun tipo di problema, come state vedendo. giusti tempi tecnici perché in realtà io sto utilizzando un computer. Questo è il potenziale di GeForce, di questa beta di GeForce Now che ancora non si sa bene quando arriverà, verrà rilasciato ufficialmente, ma credo che ormai ci siamo perché credo sia solo una questione di gestione dei server e del traffico. Non si sanno ancora assolutamente i prezzi, ripeto, attualmente il servizio costa 10 euro al mese per chi ha Nvidia Shield, una cosa relativa a Nvidia Shield. Nvidia ha parlato di pacchetti di ore molto costosi, non ricordo, ma erano molto costosi. Comunque se cercate online anche su multiplayer trovate tutti i dettagli. Sarebbe follia, significherebbe uccidere il sistema. Eccolo qui, vedete, io sto giocando senza problemi. Ovviamente, ripeto, c'è un po' di stuttering. Stuttering dovuto proprio, tipo come quando si gioca, cioè che il computer non ce la fa, sembra più che per un problema di streaming. Posso andare tranquillamente, vedete, adesso vi faccio vedere, ad aumentare i settaggi. Ovviamente, tu mi dice di riavviare il gioco per cambiare le qualità delle texture. Ecco qui, adesso io ho messo su ultra. Quindi sto giocando su ultra senza alcun tipo di problema, come state vedendo. Il gioco quello, eh, voglio che sia chiaro. Tutto, cioè tutto il gioco. Qua sto giocando con il salvataggio di Mattia, per l'appunto. Eccolo qui, come state vedendo. Se non sono convinto, vedete, il framerate non è il massimo. Non è un problema di streaming, perché vedete, non ci sono artefatti grafici. Questo è proprio un problema di framerate dovuto probabilmente al peso del gioco, perché ho messo dei settaggi dopo altri. Alla fine, parliamo di un computer con una 1080, quindi se volete giocare con tutto al massimo, l'anti-aliasing, magari aumentare la risoluzione con il super sampling, naturalmente non avrete una macchina di prestazioni infinite. Questo è importante. A questo punto, mi sono rottore scatola, esco, qui sono ritornato nella mia sessione, perché ricordatevi, io in realtà avevo aperto la sessione di gestione di Steam, ho giocato tramite la sessione di gestione di Steam. Qua, il sistema capisce che ho chiuso la sessione, credo, perché prima che ha funzionato, eccolo qui, ed è ritornato. Eccoci. Come vedete, ho ritorno alla libreria iniziale di GeForce Now, in realtà non so bene perché non me l'abbia aggiornata, ah, eccolo infatti, dicevo, non me l'aveva aggiornata con Deus Ex. A questo punto, siccome io l'ho installato sul server, avete visto, non so se ci avete fatto caso, in realtà c'era anche GTA 5 installato, GTA 5 però non è supportato da GeForce Now, quindi è come il discorso di Quantum Black. Posso giocarci, ma ogni volta teoricamente dovrei reinstallarlo o non è detto che sia sincronizzato con i salvataggi e per questo non mi compare qui. Altrimenti ho tutti i vari giochi che fanno parte di, ripeto per l'ennesima volta, di GeForce Now. Come vedete, quando sono giochi di Steam c'è il simbolino di Steam. Quando sono giochi di Battle.net non c'è invece il simbolino di Battle.net. Allora, questo è a grandiline GeForce Now, la beta che attualmente è attiva. Vi rimando assolutamente al sito, a multipravia.it se volete dare un'occhiata a tutta la prova fatta da Mattia che entra più nel dettaglio sulla latenza, sul ping e tutto quanto, sicuramente, come ho fatto il PlayStation Now, ritornerò sull'argomento perché è un argomento che io trovo super interessante con un potenziale eccezionale e che, insomma, sì, è vero, bisognerà spendere qualcosa, bisognerà vedere quale sarà la formula economica messa in piedi da Nvidia, ma è indubbio che a livello di potenziale c'è veramente tanta, tanta roba, speciale, visto che ora si sincronizza con tutte le vostre librerie dei piattaforme digitali importanti come Steam e Uplay. e Battle.net grazie, ops, scusate il buco, grazie per avermi seguito e niente, girate sul sito per trovare tutto il resto. Ciao!